Mister si è ripartita dove davvero ci eravamo lasciati, è la quinta vittoria consecutiva, il Benevento sembra non essersi mai fermato. A me personalmente, non so a lei, ha colpito l'approccio ancora una volta in questa squadra, in questa partita. Peccato per quel passo falso sul rigore, però i ragazzi sono stati bravi a reagire subito e poi a chiudere definitivamente la partita. Però era questa la partita che si attendeva dai suoi al netto di infortuni, squalifiche e assenze causa Covid? Sì, non era facile ripartire bene perché questa contro una squadra forte come il Monza, i ragazzi però hanno dato dimostrazione ancora di voler far bene, impegnarsi, lottare palla su palla. Con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, soprattutto in questa settimana, per via infortuni, Covid, quindi tanti giocatori sono stati utilizzati, ad esempio Moncini, dopo 15 giorni che è rimasto fermo per il problema Covid. Il primo allenamento l'ha fatto ieri, ha dato una grossa mano alla squadra, ha dato la disponibilità di far parte di questo gruppo, di dare una mano ai compagni, ma ci sono stati anche gli altri, di Sao che ha avuto anche problemi riguardo al Covid, ma tanti altri. Quindi sono molto contento perché non era facile ripartire, ripartire bene e faccio i complimenti alla squadra. Degli 11 titolari era l'unico che in questa settimana, ma in questi giorni, da quando abbiamo ricominciato, che non si è mai allenato con la squadra è stato Moncini, giocatore che tante volte è stato bersagliato di critiche. Voglio fare complimenti personali a tutta la squadra, ma in particolare a lui perché è un ragazzo che dà veramente l'anima, come lo fanno tutti, però in questo momento soprattutto a lui gli voglio fare complimenti. Sulla Padula si è già espresso ieri nella conferenza stampa pre-gara, rappresenta il passato, si guarda in avanti, si guarda avanti con rinnovato ottimismo e rinnovata fiducia. Arrivano elementi importanti come Farias e Forte che sbarcano all'ombra della dormiente, si aspetta qualcos'altro in entrata e poi soprattutto in uscita se si farà qualche operazione? Innanzitutto spero che i nuovi elementi di Forte e Farias vengano ufficializzati il prima possibile, sono due elementi importanti e forti per questa categoria. Forte lo conosco personalmente perché l'ho avuto alla Juve Stab e so che il ragazzo è dal punto di vista umano e caratteriale dal punto di vista tecnico. Farias lo conosciamo tutti, il ragazzo che se sta bene fisicamente è uno che ti alza il tasso tecnico, soprattutto in questa categoria dove c'è già in quel reparto dei giocatori importanti che in questo momento magari come Improta e LIA che sono fuori per infortunio, sono due elementi che ci possono dare una grossa mano. Bisogna continuare a lavorare perché ancora il campionato è lungo, abbiamo ricominciato da poco, quindi bisogna stare sempre concentrati, lottare e lavorare bene durante la settimana. Poi per quanto riguarda il mercato, l'ho sempre detto, io faccio l'allenatore, quindi devo scegliere gli undici che vanno in campo la domenica e cercare di tenere tutti i ragazzi sul pezzo e farli sentire a tutti importanti. Per quanto riguarda il mercato, siccome ho molta fiducia nella società per come lavora il Presidente e il Direttore Sportivo, ci sentiamo giornalmente, quotidianamente e parliamo di tutto, ma è giusto che le valutazioni in entrata e in uscita vengono fatte dalla società e dai calciatori che sono i diretti interessati, io devo solo cercare di allenare chi mi metta a disposizione alla società e di come, ripeto, come lavora la società, sono molto contento. A Ferrara, arriverà, ovviamente lei si auspica di vedere lo stesso Benevento, non sarà facile perché è una squadra comunque invischiata nella lotta per non retrocedere, sarà una partita tosta e al momento lei quanto rivede in questa squadra Fabio Caserta? Cioè è questa la squadra che vuole Fabio Caserta? Se dovesse esprimersi in percentuale? No, ma non do le percentuali. La mia squadra, voglio vedere una squadra che lotta palla su palla, bisogna lavorare tanto ancora e migliorare tanto. La perfezione non c'è mai nel calcio, bisogna sempre lavorare per cercare la perfezione che è difficile trovarla perché c'è sempre qualcosa da migliorare. Ma quando vedo una mia squadra che si impegna al massimo e lotta palla su palla, quella è la mia squadra. Quindi sono molto contento di quello che ho visto oggi ma di quello che vedo durante la settimana. Perché poi il giorno della gara è a mio avviso il frutto del lavoro settimanale. E di questo, ripeto, sono molto molto contento. Riguardo alla partita sarà una gara difficile come del resto lo sono tutte le gare in questo campionato. Dobbiamo essere bravi, cercare di recuperare le energie e cercare di andare a fare una grande gara contro una squadra che magari non attraverso un buon momento, se guardiamo la classifica, ma una squadra dove ci sono degli ottimi elementi. Quindi dobbiamo stare molto attenti e prepararla bene. Dovremmo aver ripristinato il collegamento con lo studio. Carmine, il mister, vi ascolta. Eccoci, mister, ben trovato. Le chiedevo un benevento camaleontico fin qui. Se abbiamo visto già un assetto diverso con Moncini e poi con Forte per l'attacco. se c'è qualcosa già di diverso nella costruzione per la seconda parte del campionato. Confermando però un benevento camaleontico e paga dividendi anche in avvio del nuovo anno. Ma noi, al di là degli interpreti, dobbiamo essere sempre bravi e pronti a cambiare. Noi abbiamo la nostra idea, sappiamo cosa vogliamo. Ci saranno delle partite, momenti dove bisogna cambiare anche in base all'avversario. La squadra, questo l'ha recepito molto bene. Come ho detto prima, bisogna continuare a lavorare sulla voglia e la determinazione di interpretare bene le gare. Poi, in base, ripeto, all'avversario, dobbiamo essere bravi e pronti a saper cambiare pelle. Billy. Buonasera, mister. Questa squadra, lo dicevo prima con Capitano Letizia, ho l'impressione che nei momenti di difficoltà acquista maggiore forza. Dopo le tre sconfitte è venuto fuori questo filotto di cinque gare con cinque vittorie. Dopo l'ultimo periodo, tra i cinque casi di Covid, il problema, le difficoltà anche da un punto di vista ambientale per il caso Lapadula, oggi è scese in campo con una determinazione straordinaria. Non so se lei è d'accordo e tra l'altro credo che questo sia anche suo merito, perché vuol dire che la squadra, come avevo detto l'altra volta, è tutta dalla sua parte. Io non l'ho mai messo in dubbio questo, non ci ho mai pensato, perché io vedo i ragazzi come lavorano, so che danno l'anima, in alcuni momenti si sbaglia, sbagliamo tutti sulle scelte, ma è stata sempre una squadra che dall'inizio del ritiro ha sempre lavorato bene, ci vuole del tempo. Quando parliamo del tempo non ci dimentichiamo che questa squadra viene da una retroversione difficile, brutta, per come è arrivata e quindi ripartire non è mai facile, però la voida determinazione i ragazzi l'hanno sempre avuta. Ci sono state delle partite dove non è andato bene, dove abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato tanto, però bisogna dare del tempo a questi ragazzi di immagazzinare tanti concetti che chiede l'allenatore. E' la cosa importante che riesce ad estranearsi dalle vicende calcistiche, extra-calcistiche, quindi quando dico faccio i complimenti alla squadra e mi riferisco soprattutto a questo. Poi sono delle cose che sono successe che, come ho detto prima, sarà la società a fare chiarezza, parlerà il Presidente, quello che dovevo dire già ho detto, i ragazzi è giusto che si concentrino soprattutto per quello che devono fare sul campo, di questo devo essere, e mi sento molto contento, felice di allenare un gruppo così, con dei ragazzi per bene e che hanno voglia di fare sempre bene. Mister, una domanda, per quanto riguarda Viviani, sappiamo che si è allenato a parte, sarà disponibile per la trasferta di Ferrara? Questa è una valutazione che faremo tra domani e dopodomani perché ancora avverte questo fastidio che da più di un mesetto lo costringe a stare fermo, a non poter far parte della squadra, a lavorare con la squadra, quindi è un elemento che dobbiamo cercare di recuperare prima possibile, ma come del resto anche gli altri, lì in proda, quelli che stanno fuori in questo momento, gli altri hanno problemi di altra natura, non fisica, tipo Pastina di serio, anche Pastina ha avuto qualche problemina fisico di serio, problema legato al Covid, quindi cerchiamo di recuperare le energie e recuperare il più uomini possibile per la partita di domenica. Pasquale. Mister, un flash in conclusione, a proposito di professionalità, dal campo l'ho sentita sempre ringraziare, soprattutto incitare Camille Glick, voci di mercato, rumors lo danno in uscita da Benevento, però stasera il calciatore non sembra averne risentito, anzi è stato uno dei migliori in campo. E lei lo ha incitato dal primo all'ultimo minuto. Io l'ho detto anche quando c'è stato l'errore individuale, che può succedere a Glick, io ho visto anche ieri la partita alla finale tra Inter e Juve, c'è stato un errore di un calciatore che gioca a certi livelli che è costata la partita magari nell'ultimo secondo alla Juve. Gli errori purtroppo nel calcio li commettiamo tutti, non ho mai messo in discussione la professionalità di Glick, poi riguardo le voci di mercato, come ho detto prima, sono valutazioni che farà in questo caso Glick con la società, ma è un argomento che riguarda tutti i calciatori, non solo Glick. Sulla professionalità del ragazzo non ho mai pensato cose diverse. Mi reputo una persona che dice le cose in faccia ai ragazzi, nel bene e nel male, quindi so di avere un rapporto di stima con tutti i ragazzi. Quindi anche nelle difficoltà, anche negli errori, credo che sia normale perché noi facciamo questo sport dove purtroppo ci sta l'errore. E quindi può capitare, ma l'ennesima dimostrazione è che un ragazzo che si è sempre messo a disposizione della squadra, soprattutto della squadra, che è la cosa più importante, è l'allenatore. Quindi sono contento della prestazione di Cambio come del resto della prestazione della squadra.